Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie principali del giorno nella regione e nel litorale di Anzio e Nettuno. Iniziamo dalla cronaca, parliamo dello schianto di venerdì notte sul raccordo anulare. Era di aprile, il 22enne è morto sul raccordo dopo uno schianto in auto a quasi 300 km orari. Una morte indiretta perché ogni attimo dell'incidente è stato ripreso dal telefonino dell'amico a bordo con il 22enne. Ferito l'amico, che si trovava con lui, è una ragazza incinta. Il dramma è avvenuto all'altezza della circonvallazione orientale, a poca distanza dall'area di servizio Casilina Est. L'auto, un Audi R8, lanciato a tutte le velocità, si è scantata contro il guardrail. Parliamo della rissa ad Anzio, rissa in piazza Battisti, in pieno centro, tra quattro cittadini stranieri, probabilmente pescatori del molo centrale. I quattro si sono picchiati al punto che uno di loro è finito in ospedale in condizioni gravi. Gli altri tre sono stati fermati e portati in commissariato che sta valutando l'arresto ed è stata confermata la denuncia per tutti e quattro, anche per il ferito. I primi ad intervenire in piazza sono stati gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Antonio Arancio, che vista la situazione hanno ammanettato i responsabili e subito dopo chiesto l'intervento delle forze di polizia. Tra tre le volanti del commissariato intervenute in zona, purtroppo non è la prima volta che i pescatori del centro sono protagonisti di violente litigate. Spostiamoci al borgo di Nettuno, nel corso del servizio di pattugliamento a piedi all'interno del borgo medievale di Nettuno, da parte dei carabinieri di Anzio, impegnati in un servizio di controllo dei luoghi della Movida. Due ragazzi di 17 anni sono stati sorpresi ad acquistare alcolici in un locale. La titolare dell'attività è stata multata e per i locali i carabinieri proporranno più seri provvedimenti. È stata avviata la pratica per la revoca della licenza commerciale. L'abuso di sostanze alcoliche tra i minori è la prima causa di incidenti rischi sul litorale. Questo è importante da ricordarlo. Approfondiamo la settimana di controlli che si avvia a conclusione. Questa settimana controlli della questura di Latina su tutto il territorio. I controlli che ha visto la collaborazione della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione e Crimine del Lazio complessivamente sono stati conseguiti posti di blocco di controllo effettuati su tutta la provincia che sono stati oltre 100 ed hanno consentito l'identificazione di oltre 1.500 persone e sono stati inoltre controllati più di 630 veicoli contestate oltre 230 infrazioni del codice della strada, due le autovetture poste in stato di fermo amministrativo per mancata revisione e mancanza di assicurazione obbligatoria, 17 documenti ritirati tra patenti e carte di circolazione e sono stati quasi 60 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e della regolare posizione sul territorio nazionale. E ora una notizia nazionale che riguarda il pontino Francesco Zicchieri che è passato dalla Lega di Matteo Salvini al partito di Matteo Renzi passando per Luigi Di Maio. Da oggi sto con Italia Viva, ha dichiarato al giornale Il Foglio Francesco Zicchieri, già vice capogruppo della Lega della Camera. In questi quattro anni in Parlamento mi hanno fatto toccare i problemi reali del paese, la vita delle istituzioni, pandemia e guerra. Mi hanno segnato. Renzi è un leader che mette al centro gli interessi degli italiani, non quelli del partito e dei sondaggi e l'ho fatto fino all'ultimo cercando di lavorare per l'avvento di Draghi. L'ex leghista che ha rotto con Salvini per la delusione di non essere stato nominato responsabile del Dipartimento. Vediamo ora una notizia di cultura e spettacolo, lettura recitata, corto tetrale e musica dal titolo L'Uomo dei Sogni a Villa Sarsina ad Anzio. Uno spettacolo nella sede comunale dedicato al centenario della nascita di Angelo Cesselon, artista e pittore di tabelloni cinematografici che nel corso della sua vita scoprì e si innamorò dei litorali romano tra Anzio e Nettuno. L'evento è stato curato e organizzato da Alessandra Cesselon, oltre che ad essere interprete, davanti al pubblico recitando delle vesti di sua madre, Lina Forte, mentre Claudio Tondi è salito sul palco interpretando lo stesso Cesselon. Musica, arte e spettacolo nel ricordo di un artista che ha fatto la storia del cinema italiano in un corto durato circa 20 minuti, accompagnati dalla musica di Claudio Tomassini. E queste sono le principali notizie del giorno. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito in questo appuntamento con l'informazione e vi rimando ai prossimi appuntamenti, sempre su Canale 81. Aiuto!